che fa che la scombe e il potere ha finito abraham è bello pensare che dice abraham non lo vede 3 oh no gargiulo non si può non si può non si può e poi scusa non ho capito gargiulo tira così cos'è cos'è abraham questa è una squadra incredibile questa è una squadra incredibile come fa a gargiulo a tirare così scusa eh che me l'ha messa vabbè Roma Rezio via